L'assessorato alla cultura con la signora D'Ignazio, io conosco già coloro i quali ci chiederanno la serata e vi posso garantire che ce ne andremo sicuramente soddisfatti, sicuramente. Dobbiamo ringraziare il parroco, non so se sta il parroco oggi, comunque lo ringraziamo per l'ospitalità perché è sempre disponibile a far sì che ci dà la possibilità di organizzare queste manifestazioni, non avendo un altro locale dove poterci allogare, ci mette a disposizione i locali della parrocchia. Grazie e intanto vi ringrazio anticipatamente così alla fine non parlo più, adesso ascoltiamo solo quello che voi fate. Va bene? Ok, grazie e buona serata. Grazie.